Musica Gentili telespettatori, buonasera, nuova edizione del telegiornale delle Marche in onda sui canali di TVRS. L'emergenza coronavirus ovviamente monopolizza il nostro notiziario in una giornata caratterizzata oltre che dai dati e dalle cifre anche dalla frenetica attività per cercare di aumentare la dotazione di posti per i malati più gravi. Dobbiamo comunque aprire con la consueta e purtroppo tragica conta dei decessi arrivati nelle Marche a 230 con un'età media di 80 anni, quasi tutti con patologie pregresse. 28 i morti di oggi di cui 4 dalla città di Pesaro ed altre tanti di Ancona ed inoltre due morti a tre castelli, Senigallia, Vallefoglia, Fano. Piangono decessi anche le località di Sant'Ippolito, Cagli, Pian di Meleto, Iesi, San Marcello, Fratte Rosa, Pergola, Serra Sant'Abbondio, Civita Nova Marche, Porto Sant'Elpidio, Mogliano e Mercatino Conca. Gli uomini sono sempre in netta maggioranza, anche oggi 18 su 28. Il più giovane aveva 56 anni ed è ispirato all'ospedale di Pergola nel reparto di Lungodegenza. Il più anziano invece 98 a Iesi ed era di San Marcello. È stata quell'odierna la giornata anche dell'attesa visita ad Ancona dell'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, attuale tra l'altro consulente della regione Lombardia, allo scopo di realizzare in tempi brevissimi la nuova struttura da 100 posti letto di terapia intensiva. Molto attesa. Vediamo il servizio. Una terapia intensiva nuova di zecca per circa 100 posti letto. L'obiettivo a breve termine per realizzare anche ad Ancona una struttura sul modello di quanto si sta facendo in Lombardia. Per coordinare e rendere fattibile in una decina di giorni questa impresa è stato chiamato l'uomo delle emergenze per eccellenza, ossia Guido Bertolaso. Serve una superficie da 10.000 metri quadri e le aree individuate sarebbero due. Il pala indoor, struttura dedicata all'atletica leggera alle palombare, oppure un traghetto, si pensa, ad una delle navi Adria Ferris. Lotta quindi senza quartiera al Covid-19, nemico subdolo invisibile e temibilissimo, per la quale occorrono anche risorse private, immediate e sostanziose. Bertolaso è arrivato in mattinata su un elicottero dei carabinieri al Molo Rizzo e lui, uomo del fare per antonomasia, ha trovato il tempo per scambiare qualche battuta con i giornalisti. Abbiamo dato le indicazioni per attivare subito il progetto di questo centro. Adesso i nostri tecnici faranno tutti i rilevamenti per avere la certezza che la struttura sia idonea ad ospitare una struttura così complessa e articolata come è un grande centro di riarimazione. Quindi ho lasciato qua il mio braccio destro che è la persona più indicata per fare tutti i rilevamenti e fare la progettazione e fra appena domani o dopodomani avremo luce verde e partiremo con l'acquisto dei materiali, la predisposizione delle strutture. Insomma è un programma molto complesso, stiamo replicando quello che si sta facendo a Milano. Io spero che se non ci saranno ostacoli, se tutto quello che ci sembra fattibile lo sarà davvero immagino che fra una decina di giorni potremmo essere pronti. Il tempo stringe, è una corsa contro il tempo. Se la rispettiamo in dieci giorni dovremmo essere in grado di poter fare in modo che tutti i marchigiani che hanno bisogno di questo genere di assistenza così importante, sofisticata e delicata possano averla. Qui con me c'è il primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Lodi che come sapete è in prima linea dal primo giorno, ha avuto la disponibilità di venire con noi, ha fatto uno staff con tutti i suoi colleghi dell'ospedale Molinette, ci sono scambiati informazioni. Questa guerra, questo virus è una guerra nuova, diversa, difficile. Quindi chi è stato in prima linea dal primo istante oggi trasferisce le esperienze a chi sta incominciando ad affrontare questo problema. Questo si chiama gioco di squadra. Speriamo che in Italia tutti lo capiscano e tutti lo facciano. Ed ora ci sono 24 ore di tempo per decidere, poi bisogna entrare nella fase operativa perché la struttura va realizzata in 10 giorni per alleggerire i reparti di terapia intensiva del polo di Torrette, dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona e non solo. Bisogna trovare in fretta 12 milioni di euro perché solo attraverso queste donazioni si può arrivare celermente all'obiettivo. E' un po' questo il senso dell'appello lanciato dal Presidente della Regione, Luca Ceriscioli. Sentiamo. Un incontro molto positivo oggi con Guido Bertolaso, il suo staff, per valutare la possibilità di realizzare delle marche quello che si sta facendo in Lombardia. Ovvero una struttura, nel caso nostro, di 100 posti letto per rianimazione, che è la parte più complessa, la parte più importante, quando ci si ammala e l'insufficienza respiratoria diventa molto molto grave. E' una necessità che potremmo avere da qui a pochissimi giorni e quindi serve uno sforzo straordinario. Per poterlo realizzare sono state individuate due opzioni, ma la cosa più importante sono le risorse. Non lo possiamo fare con le risorse pubbliche, non perché non abbiamo i 12 milioni che servono per realizzare, ma per la velocità. Per poterlo fare in tempi così stretti, solo un percorso, un meccanismo di donazione può permettere di ottenere questo risultato. Quindi l'appello che faccio è un appello importante, soprattutto alle imprese, alle grandi imprese della nostra Regione, perché la scelta di impegnarsi in questa direzione permetterà di realizzare qualcosa di veramente importante che salva la vita ai marchigiani. 12 milioni di euro non sono una cifra impossibile, sono una cifra impegnativa. E' chiaro che funzionerà solo se tutti quanti risponderanno all'appello. Si tratta oggi di raccogliere le adesioni, perché poi la donazione vera e propria andrà verso un soggetto, una fondazione che opera normalmente con protezione civile, che collaborerà poi con lo Stato di Bertolaso per realizzare questa importante infrastruttura. Quindi denaro privato, donazioni per dare velocità all'intera operazione. E' un appello importante, vediamo cosa maturrà nelle prossime ore, perché la macchina che si è messa in moto è velocissima. Arrivassero queste prime indicazioni sotto il profilo del sostegno economico, l'obiettivo è nell'arco di 10 giorni di realizzare questo impianto. Quindi un tempo strettissimo, non paragonabile con i tempi che normalmente al pubblico, anche in emergenza per operare, ma di grandissimo valore per la nostra sanità, per la salute dei nostri cittadini, per affrontare al meglio e giocando tutte le carte un momento così difficile a vantaggio dei marchigiani. Sono in volo le circa 60.000 mascherine donate dalla città di Xiancheng al comune di Recanati. Siamo molto grati, ha detto il sindaco Antonio Bravi, per la loro donazione. Sono riusciti a superare in tempi brevi le difficoltà burocratiche per la spedizione e per l'organizzazione del volo aereo, che in questo momento non era facile. Tutto è nato nel 2017, quando l'Unione Sportiva dei Canattese Calcio aveva inviato alcuni tecnici per due settimane ad insegnare lo sport nelle scuole della città cinese, grazie alla Via Soccer, che si sono fatti ambasciatori delle due culture, un rapporto che si è intensificato nel tempo con visite e scambi culturali reciproci e che oggi ha visto la città cinese in prima linea nella solidarietà concreta verso Recanati. Le mascherine saranno distribuite dall'amministrazione comunale a tutti gli operatori sanitari, agli uffici pubblici, alle aziende autorizzate alla produzione, ai volontari delle associazioni, ai cittadini e da tutti coloro che ne faranno richiesta. Arriva anche nelle Marche, in particolare al gruppo COS Santo Stefano, il test per riscontrare in pochi minuti la presenza nei pazienti del Covid-19. La fornitura giunge grazie alla Inno Living di Ancona, che ha stretto un accordo con la multinazionale Zezian Orient, produttrice di un modello brevettato con tale finalità e di facile utilizzo. Bastano poche gocce di sangue del paziente, di riscontro visivo arriva in appena cinque minuti. Questo consente ai medici di conoscere da subito la presenza o meno del virus. Inno Living opera da oltre dieci anni nel settore dell'ealthcare e la cura della persona, studia prodotti grazie al suo ufficio marketing ed è presente in Cina con un'azienda partecipata che produce prodotti nel settore. Da segnalare che 180.000 kit sono già stati consegnati alla Polizia del Belgio. Ed ogni giorno è un alternarsi di speranze e sconforto, secondo i dati che puntualmente ci fornisce il Gores. Ieri si è registrato un numero decisamente inferiore di casi positivi, anche se nel contesto di una cifra minore di campioni testati. Sentiamo. Nella quotidiana alternanza di cifre, un giorno sembra giustificato lo sconforto, un altro una flebile speranza. Il dato dei nuovi positivi nelle marche relativa a domenica 22 marzo è di 148, dato che evidenzia una netta diminuzione rispetto ai 268 di sabato. Occorre leggere questo risultato però alla luce dei campioni complessivamente testati, che sono stati 391, decisamente meno quindi rispetto ai giorni precedenti. Il totale complessivo alle 12 era quindi di 2.569 positivi, di cui 1.312, poco più della metà nella provincia di Peser Urbino, 702 da Ancona, 326 a Macerata, 133 a Fermo, 61 ad Ascoli Piceno. L'incidenza della zona più colpita sta lentamente rallentando. 149 sono i ricoverati in terapia intensiva, 128 nei reparti di semi-intensiva. Ci sono ancora posti letto disponibili, ma come giustamente è stato osservato, occorre prepararsi al peggio ed attrezzarsi di conseguenza. 4.916, dato comunque non aggiornato, per problemi di collegamento nella rete informatica Asur, sono i casi ed i contatti di isolamento domiciliare. 162 ricoveri indegenze post-critiche. Infine, i guariti sono saliti ad otto, dato enormemente lontano per indurre ad un briciolo di entusiasmo. E ieri sera è raggiunta anche la notizia del primo neonato positivo. Il piccolo è nato il 12 marzo scorso ed è stato trasferito due giorni dopo al Salesi di Ancona, dove ha subito un trattamento chirurgico a carico del tratto gastrointestinale. Si trova in rianimazione pediatrica per il decorso post-operatorio e non per il coronavirus. Durante il ricovero è stato sottoposto al tampone, che ha dato esito positivo. E preoccupazioni arrivano un po' da tutto il mondo produttivo. Chiudiamo, ma se il governo non vuole farci fallire, deve cambiare marcia. I calzaturieri sono preoccupati, mancano risorse ed azioni concrete per la manifattura. Ha dichiarato in una nota Valentino Fenni, presidente della sezione Calzaturieri Confindustria Medio Adriatico. Mancano risorse e azioni concrete per la manifattura. Le misure compensative sono al momento ridicole. Se non cambia qualcosa in fretta, le aziende non hanno futuro. Ed i molti controlli di questi giorni da parte delle forze dell'ordine stanno producendo anche diversi effetti collaterali. Sentiamo cos'è successo a Civitanova. Dichiara i militari della Guardia di Finanza in servizio di pattuglia per verificare il rispetto delle norme sull'emergenza coronavirus, di essere uscito di casa per giocare al super ennalotto e quindi senza valide ragioni. In realtà il comportamento di questo 61enne appiedato, fermato a Civitanova Marchi in via Dante Alighieri, ha subito destato dei sospetti tra gli uomini delle fiamme gialle per il forte stato di agitazione e per il fatto comunque che l'uomo era conosciuto per presunti coinvolgimenti in giri relativi allo spaccio di droga. Da lì alla perquisizione domiciliare il passo è stato breve e grazie al fiuto dell'unità cinofile è stata rinvenuta nel bagno, occultata all'interno di un mobiletto cocaina per 27 grammi, in parte già ripartita in dosi, pronte alla vendita. Veniva scoperto e sequestrato altresì materiale funzionale al confezionamento dello stupefacente e 150 euro in contanti in vari tagli ritenuti provento del reato di spaccio. Per l'uomo sono scattate le manette su disposizione del magistrato di turno condotto agli arresti domiciliari. Lo stesso è stato altresì denunciato ovviamente per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in quanto si era spostato dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Facile prevedere che se questi pattugliamenti così diffusi dovranno proseguire si andrà incontro ad altri effetti collaterali chiamiamoli così, di questo tipo. E restiamo alla cronaca perché i carabinieri della stazione di Camerano hanno tratto in arresto un cittadino brasiliano 27enne ed un italiano 20enne perché trovati in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi. I militari hanno notato un via-vai sospetto di ragazzi nei pressi di un garage scoprendo una serra con 10 piante di cannabis ed un sacchetto con circa 300 grammi di marijuana. Sono stati giudicati per direttissima in videoconferenza dalla caserma della compagnia Carabinieri di Osimo. Durante l'udienza è stato convalidato l'arresto ed è stata disposta la scarcerazione con rinvio del procedimento al 7 luglio. Per l'indagato straniero è stata avviata anche la procedura per accertare la regolarità della sua permanenza sul territorio nazionale. Un equipaggio della squadra volanti è intervenuto nel quartiere Monticelli di Ascoli per una lite in famiglia. I poliziotti giunti sul posto hanno trovato la casa dove vivevano madre e figlia a suo quadro. Lui, 27enne, aveva avuto un alterco per futili motivi con la madre, una 58enne agli arresti domiciliari. L'uomo, preso dall'Ira con un macete, si era scagliato contro i mobili ed i vetri delle finestre, distruggendo tutto. La situazione si è calmata e gli investigatori hanno trovato in casa anche spade e coltelli, sequestrando tutto. A quel punto il figlio è stato denunciato per le minacce rivolte alla madre, brandendo quelle armi. I vigili del fuoco sono intervenuti. La scorsa notte a Visso, località Molino di Croce, per un incendio di una casetta in legno adibita in passato a locale bar. Dalla sede di staccata di Visso con un'autopompa e da quella di Camerino con un autobot ed un numero totale di sette unità, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme che sono state spente ed è stata messa in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. E vediamo ora le previsioni meteo per martedì 24 marzo. Bentrovati da Nikos di Trebi Meteo per martedì una massa d'aria fredda giunta nei giorni scorsi dalla Finlandia verso i Balcani. L'Italia si farà ancora sentire con venti tesi forti e freddi di grecale dell'instabilità sulla parte adriatica e al sud soprattutto sulla Sicilia. Guardate la banda nuvolosa. Più sole invece al nord e sul medio alto versante tirrenico. Andiamo a vedere la prossima grafica che ci evidenzia di fatti queste precipitazioni sul medio adriatico e poi anche verso la Puglia con il bianco la neve a quote molto basse di bassa collina. Delle precipitazioni però anche all'estremo sud specie tra Sicilia e Calabria. Attenzione perché poi una perturbazione si formerà una zona di bassa pressione da mercoledì proprio sui mari del sud con diffusa instabilità sulle regioni meridionali e venti sostenuti. Nel dettaglio possiamo osservare la previsione in dettaglio in sintesi sull'Italia una giornata che sarà di bel tempo al nord con cieli sereni o poco nuvolosi il sole anche tra Toscana gran parte di Lazio Sardegna mentre l'instabilità medio basso adriatico al sud occasionali piovaschi la neve a quote di bassa collina tra basse marche Abruzzo Molise e Alta Puglia temperature contenute invernali. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trabi Meteo Un'ultima notizia questa sera alle 20.50 sul canale 11 di TVRS riproporremo l'epica gara 5 di finale scudetto del campionato di pallavolo giocata a Pesaro tra Lube Banca Marche Macerata e Sisle Treviso del 21 maggio del 2006 match che molti di voi lo ricorderanno permise ai biancorossi di aggiudicarsi il primo scudetto della loro storia con questo è tutto per il nostro telegiornale grazie per la cortesa attenzione a domani